Sono 76 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Puglia. A renderlo noto il bollettino epidemiologico della regione che parla di 3.764 tamponi effettuati. Le nuove positività riguardano la provincia di Bari con 47 casi di cui 36 sono contatti stretti di persone già contagiate. Due casi sono stati registrati nella BAT di cui uno è un contatto stretto di un caso già accertato, sull'altro sono in corso ulteriori indagini. Tre nuove positività nel Brindisino di cui il primo è un rientro dalla Grecia, il secondo è una dipendente dell'azienda di Poliniano a Mare che era stata a stretto contatto con un caso accertato, il terzo infine è un tampone di controllo. 12 contagi nel Foggiano tutti collegati a casi già noti, 4 nuovi positivi in provincia di Lecce e come riporta il dirigente della ASL uno era già in isolamento, due sono rientri dalla Romania e dall'Albania, l'ultimo è un residente accertato con lo screening prima di una prestazione sanitaria. Infine, 7 casi riguardano la provincia di Taranto e sono riconducibili a pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi e già in isolamento. Nel bollettino di Erno non sono stati riportati decessi. Il numero dei reattualmente positivi dunque sale a 1599, di questi 189 sono ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 1402 si trovano in isolamento domiciliare.